guarda che non si pelano così le patate perché? scarti troppa patata capirai dopo 30 anni che scarto patate e voglio dire non è che perché voi neri siete migliori in tutto adesso devi venirmi a insegnare a pelare le patate dai vado a fare i selfie, dai camminare scusami Michael Jordan, Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Obama, Arita Franklin non ti dicono niente ma cosa c'entra? c'entra invece guarda Bolt e dimmi di un bianco che lo riesce a prendere io? in taxi noi neri siamo migliori in tutto no non è che voi neri siete migliori in tutto è che voi neri siete stati per anni a raccogliere le balle di cotone adesso avete l'ansia di dover dimostrare anche troppo ma tu taci, tutt'ancamon vieni qua, vieni qua vieni qua aspetta, vieni, vieni corri eh nonostante stai mangiando anche che dov'è che ti posa di più? il fatto di essere quasi bianco e quindi comunque più svantaggiato o di avere dieci anni più di me paparino vedi io sarò anche più bianco di te sarò anche più vecchio di te ma almeno vedi amore io se mi sporco di cioccolato me ne accorgo no in doppia no dai no dai no no dai no dai no dai no dai no dai no dai